ciao fragolini e ciao fragoline allora penultimo video cioè in senso che questo video che vedete nel mese di marzo in poche parole io la sto registrando a febbraio ma voi lo vedete a marzo per adesso metto questo grattivinci io di solito vi metto due grattivi due video di grattivinci in un mese se riesco a comprare altri grattivinci e riesco a registrare il video ve lo metto su a fine mese di marzo se no se ne parlerà nell'altro mese come vedete nell'anteprima vi faccio vedere i grattivinci che ho preso che in teoria dovete saperlo che grattivinci ho preso perché ho già spoilerato su instagram per cui se ancora non mi seguite su instagram seguitemi così almeno sapete già i grattivinci allora questo è 10 per nuovo scusate 2 euro invece questo monetine fortunate 1 euro dato che l'altra volta abbiamo vinto 3 euro ovviamente non sono i soldi che ho recuperato su questo grattivinci ma dato che ne ho presi come vi ho fatto vedere nel video tutti insieme ne ho presi un altro però questi grattivinci li ha scelti il mio ragazzo per cui dato che il mio ragazzo ha scelto i grattivinci per me voglio vedere se ha portato fortuna e se sono vincenti per cui guardate in fondo questo video io mi sto già impappinando e lo scoprirete il perché detto questo iscrivetevi al canale lasciatemi un like che ne farò altri di questo genere di video seguitemi su instagram e un commentino qua sotto detto questo iniziamo e vediamo se ho vinto allora proviamo a giocare monetine fortunate e l'altro lo lasciamo per ultimo allora vediamo un po il premium ovviamente 10.000 questo grattivinci non lo voglio più prendere mi ha portato fortuna una volta basta allora 10 20 5 un altro 5 abbiamo qua un 20 e per finire non si gratta un 5 scusate ma qua diciamo che c'è sotto qualcosa e non riesco oh forse così va bene non riesco a grattare allora 40 50 60 5 per cui questo è perdente direi che possiamo buttarlo perché tanto è perdente andiamo avanti con l'ultimo gratta e vinci questo semplicissimo da giocare costa poco 2 euro per cui se è buono che mi piace in senso che è bello da da giocare li prenderò altri dato che costa meno allora iniziamo dai nostri numeri che sono 19 32 43 e 31 vediamo se uno di questi sono vincenti incrociamo le dita proviamo a vedere un 33 abbiamo il 32 poi un 15 non ce l'abbiamo un 21 si beh con i numeri alti guarda sicuro al 100% che non vengiamo e invece qua c'è qua c'è cinque per due è bella domanda che però questo però non riesco a capire come si gioca qui abbiamo un 34 che non ce l'abbiamo un 29 che non ce l'abbiamo un 36 non ce l'abbiamo 14 neanche il 28 non ce l'abbiamo e per finire il 23 che ovviamente non ce l'abbiamo allora praticamente abbiamo vinto 10 euro perché io ho trovato il 5 per per cui in poche parole lo dobbiamo moltiplicare moltiplicare i due euro per 5 e da quello che ho capito ho vinto 10 euro anche perché ho provato a leggere dietro e da quello che ho capito è che ho vinto 10 euro per cui questo biglietto che ha scelto il mio ragazzo è vincente e abbiamo vinto 10 euro ho controllato nell'app dove c'è praticamente la sbarra che ti indica se il biglietto è vincente o perdente mi dice che ho vinto 10 euro per cui questo 5 per è moltiplicato per questi due euro e non me l'aspettavo perché è la prima volta che vinco 10 euro ovviamente lui ha speso 3 euro e ne ha vinti 10 diciamo che c'è scusate per il sole ma ho la postazione un po' così così comunque è la prima volta credo in quest'anno perché da sì solo tre video ho fatto quest'anno per il momento per cui direi che questa è la prima volta che vinco 10 euro beh per me sono tanti perché è meglio vincere qualcosa che non vincere niente lo dico sempre in questi video ovviamente è un divertimento non è che io lo faccio perché sono fissata che devo comprare i gratti vince e vincere no questo è un gioco giustamente lo faccio per divertimento lo faccio perché piace questo genere di video vedo che ho più visualizzazioni su questo genere di video e mi diverto a grattare con voi mi diverto a fare questi video non so quante volte lo devo ripetere non so quante volte lo devo ripetere per cui direi che sono soddisfatta perché mi piace questo genere di video ok detto questo i 10 euro ovviamente gliele do il mio ragazzo perché cioè ha scelto lui i biglietto sia uno che l'altro l'altro però è perdente questo è vincente ovviamente i 10 euro gliele do lui cioè anche perché l'ha pagato lui con i suoi soldi se l'ha scelto per me fa vabbè te lo do fai il video eccetera allora gli ho detto va bene però se vinco i soldi te li do te perché non è giusto cioè lui paga scegli il gratti vince per me e poi alla fine mi tengo i soldi no per cui io c'è ragione così alla fine i 10 euro andranno lui invece i soldi che ho ricavato nell'altra vincita dell'altro video giustamente prenderò un altro gratti vinci ovviamente nel fine mese di marzo ne vedete un altro spero di riuscire a comprarne un altro e a registrare dato il tempo del lavoro è proprio poco e e poi vabbè continueranno non lo so se continueranno normale in senso pubblicare due video al mese di gratti vinci perché se ci sarà il trasloco c'è un delirio e sarà complicato registrare questi video farli comprare i gratti vinci per cui vi dico già che non lo so voi vedete questo video poi non lo so se più là in questi mesi ci saranno i gratti vinci però anche se non ci sono seguitemi lo stesso guardate altri video che sono anche carini gli altri video che faccio e niente anzi sono curiosa scrivetemi qui sotto nei commenti voi guardate solo questo video dei gratti vinci o guardate altri miei video quelli che pubblico sul canale fatemelo sapere qua sotto perché c'è gente nuova c'è gente appena scritta che ha visto questi video e sono curiosa di sapere se vedete altri video o solo questo genere di video per cui fatemelo sapere qui sotto nei commenti che sono veramente curiosa detto questo spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo e mi raccomando vi aspetto su Instagram se volete anche parlare con me in privato c'è il mio Instagram o la mia mail qua sotto ciao e al prossimo video